Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, il centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti. Benvenuto professore. E un caro saluto a tutti e a tutte, eccomi. Professor Novara, festeggiate i 35 anni del vostro centro, il CPP, e in questa occasione è stato realizzato un murale intitolato Rompere il Cuscio, vivere il conflitto, far nascere nuove risorse. In questa opera sono racchiusi le tre priorità del vostro centro. Partiamo dalla gestione dei conflitti. Ci dice cosa vuol dire vivere il conflitto oggi e ci ribadisce la differenza tra conflitto e violenza. Esatto, questo è un po' l'elemento storico del nostro lavoro. Ricordo che già nel 1990 scrivevo un libro che si intitolava proprio Il litigio, materiali per una didattica della non violenza, per una casa editrice. Insomma, è sempre il territorio che mi ha intrigato, che mi ha incuriosito, che mi ha fatto capire che su questo tema bisognava insistere, bisognava lavorare perché è un tema di sopravvivenza. Come è noto, gli organismi viventi devono saper affrontare le temperie, altrimenti muoiono, si ammalano. C'è niente da fare. Il resto dell'idea è che se non sai affrontare il conflitto rischi la vita, ma non perché non sei abbastanza pronto a rispondere a botta su botta. Non è questo, ma perché sotto il piano psicologico e psichico ti vengono meno gli anticorpi, gli antidoti per affrontare le sfide della vita. E quindi puoi finire in situazioni di depressione, di malattia psicosomatica o comunque anche di violenza nel vero senso della parola. Per cui imparare a gestire bene, bene, il conflitto è uno scopo nobile, secondo me è importantissimo. Purtroppo va detto che il lavoro non ci manca. Nel senso che, specialmente negli ultimi due o tre anni abbiamo fatto tanti passi indietro, l'immaginario si è riempito della categoria della guerra, prima con l'Ucraina, poi con la Palestina e non solo quello. L'immaginario si è riempito di armi, distruzioni, nemici, morti, armamenti. Ecco che quindi si è tornati indietro da questo punto di vista ed è anche pericoloso. I giovani si stanno facendo del male anche per quello, perché comunque un immaginario così impregnato di guerra e di violenza agisce sulle neuroconnessioni giovanili, spingendoli ad azioni nefaste verso loro stessi e verso ovviamente gli altri. Per cui il tema forte è questo. Se sai vivere bene il conflitto, se sai affrontare i conflitti sapendo comunicare, piuttosto che aggredire o addirittura usare violenza, ecco che la tua vita è più facile, è più felice direi, perché noi non possiamo evitare queste situazioni, ma la felicità è proprio saperle affrontare bene. Allora anche per i nostri bambini abbiamo il metodo litigare bene, per i ragazzi abbiamo tanti strumenti per aiutarli, ma in generale ci vorrebbe veramente un grande, grande piano, un grande programma di alfabetizzazione conflittuale, perché è un elemento che ho ricordato anche durante la giornata contro la violenza alle donne, è che chi non sa affrontare i conflitti relazionali è destinato alla violenza, o verso se stesso o verso gli altri. Quindi è pericolosissimo che la società non si muova in questa direzione. E come dire, addirittura trascuri un'educazione civica centrata su questo. In fondo la democrazia cos'è? È una ritualizzazione dei conflitti senza violenza, e questo se ce lo dimentichiamo poi rischiamo di non dare sufficiente valore proprio al voto, alla partecipazione, perché bisogna presidiare, vigilare su queste componenti fondamentali della vita democratica, andare a votare, essere presenti, vivere la democrazia, perché questa ci consente di essere risparmiati dalla violenza e dalla guerra. Così come dice la nostra Costituzione, in articolo 11 l'Italia ripudia la guerra, molto molto importante. Ecco, diciamo che in questo morale ci sono i tre elementi che caratterizzano il vostro operato. Il secondo è proprio quello di rompere il guscio. Cosa vuol dire educare affinché avvenga questa rottura? Esatto. Ne ho parlato tantissimo nel mio ultimo libro, Non sarò la tua coppia, liberarsi dai copioni educativi. Sono due le operazioni che bisogna fare. Da un lato ricevere un'educazione, è molto importante, è un diritto, è contenuto nella Convenzione sui diritti dei bambini e delle bambine. Ciascuno di noi ha bisogno di un padre, di una madre, di una scuola, di un insegnante. Si ha tendenze, si ha, come dire, propensione religiosa, anche da questo punto di vista, eccetera. Avere una formazione, qualcuno che ti aiuta a crescere. ma a rompere il guscio e anche in età adulta, non solo, anche in età adolescenziale, ma tanto più in età adulta, sapersi liberare dell'educazione ricevuta e costruirsi un'educazione che non è più quella che hai ricevuto dai tuoi genitori, per la tua scuola o quant'altro, ma è ciò che tu stesso hai scelto, tu stesso hai voluto, tu ti hai, come dire, ti sei sintonizzato, no? È, come dire, il processo di apprendimento in età adulta che ti libera dai copioni educativi. Per esempio, i genitori di oggi si sono sostanzialmente liberati dall'idea punitiva verso i figli, non tutti, eh, dire la verità, però quasi tutti si sono liberati ed è fondamentale anche agli insegnanti. Oggi a scuola nessuno può più mettere le mani addosso, no? agli alunni, ma quando io ero alunno negli anni 60-70, altro che le mani addosso, eravamo come degli allenatori per i nostri insegnanti che ce n'erano tantissimi maschi. E poi è cambiato, per fortuna, di generazione in generazione ti liberi, hai ricevuto un'educazione e poi la sfrondi. Questo è rompere il cursio, vivere il conflitto con le proprie radici per tenere le cose buone, liberarsi di quelle che non ti servono o addirittura quelle cattive. Ed è un'operazione formidabile, straordinaria, bellissima. Ecco, noi come istituto su questo siamo veramente impegnati in prima linea. Il terzo aspetto è legato a far nascere le nuove risorse. A livello educativo, sia a scuola che in famiglia, come avviene questo processo? È il processo maieutico. Noi, parliamo di metodo maieutico che poi l'ho chiamato col mio nome. Ossia, la maieutica è un termine greco che sta per ostetricia come termine latino, di origine latina, far nascere. Abbiamo bisogno di metodi di apprendimento che non siano né ripetitivi, né nozionistici, né autoritaristici, né impositivi, né impositivi, ma metodi che sappiano generare e che sappiano far vivere agli alunni nel caso della scuola o comunque agli allievi nel caso anche di centri educativi come il nostro, esperienze dove, come direbbe la Montessori, imparo tirando fuori le mie risorse, aiutami a fare da solo. Io credo moltissimo a questo claim montessoriano e ho sempre giocato su questo versante, su questo registro, fare in modo che le persone di cui mi sento responsabile sotto il profilo dell'apprendimento siano impegnate non ad ascoltare, non a ripetere, non a scimmiottare, non a darmi conferma, ma a cercare, cercare anzitutto dentro se stessi, cercare a livello di laboratorio, cercare, cercare sempre per trovare risposte che siano confacenti a se stessi, alla propria natura. Lo vediamo anche con i bambini, pensiamo alla questione dello sport, non tutti i bambini amano lo sport, è straordinario, non ci si fa nulla, oppure non tutti amano lo stesso sport, oggi in Italia dovremmo tutti fare tennis, ma per fortuna non sta succedendo, è meraviglioso. ecco, quindi tirar fuori, generare nuove risorse e riscoprire le risorse che abbiamo già e poi scoprirne delle nuove e questa è l'educazione, non dare risposte esatte a domande più o meno tendeziose. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda, il vostro centro rappresenta l'efficacia del lavoro in gruppo, quale insegnamento si protrarre per realizzare sinergie positive in ambiti familiari, quindi tra genitori, in ambito scolastico nel gruppo dei docenti e nelle alleanze educative tra scuola e famiglia? Beh, certo, noi siamo anche una cooperativa, quindi lavoriamo sempre come staff, come gruppo, io sono un fanatico in un certo senso del lavoro di gruppo, sono uno, come conoscono i miei collaboratori, che chiede sempre aiuto e chiede sempre di lavorare di lavorare assieme, sono contrarissimo al proverbio chi fa da sé fa per tre, mi sembra un proverbio inventato da un decerebrato, lobotomizzato, ma come fai a dire una cosa del genere? Anche adesso, per esempio, lo si vede quando danno il Nobel, no, per le materie scientifiche, ma è rarissimo che lo diano una persona soltanto, perché comunque c'è sempre un'equipa, c'è sempre una condivisione, ecco, nessuno, anche nel nostro caso, si educa da solo e quindi noi facciamo squadra, lavoriamo assieme, io credo moltissimo, certo, per esempio, quando, non so, devo pensare qualcosa, devo inventare qualcosa, ho assolutamente bisogno che ci siano gli altri, è nella condivisione che mi vengono le idee, perché da solo continuo a mulinare e a macinare le stesse le stesse idee, alla fine di ogni riunione chiediamo ci stiamo dimenticando qualcosa, c'è qualcosa che abbiamo trascurato, fondamentale farsi questa domanda, alla fine di una riunione, perché è bellissimo che ognuno porti il suo punto di vista e allora ecco che il conflitto diventa generativo, perché ognuno porta qualcosa, non che abbiamo paura se c'è una divergenza, se c'è un'opinione diversa e questo è il bello, ti permette di arricchirti, è anche il bello della democrazia in un certo senso, ma quando si lavora assieme devi avere, non so, preziamo la tecnica del brainstorming o delle libere associazioni, sono tecniche favolose da questo punto di vista, ci permettono, non dico di trovare una risposta esatta, ma di scoprire nuovi mondi, nuove possibilità, e i genitori lo stesso, con tal gioco di squadra, io dico sempre ai genitori parlate in prima persona plurale ai figli, ti abbiamo detto, ti abbiamo chiesto, vogliamo sapere, ti proponiamo, mai in prima persona singolare, ti ho detto, ti ricordo che, no, ti ricordiamo, sono dettagli di una comunicazione che simbolicamente raggiunge di più i figli proprio su questo versante, il versante come dire di un gioco di squadra dove i genitori non si presentano da soli, non si presentano nell'esclusivizzazione con i propri figli in un rapporto totalmente personale, ma vivono, ecco, il loro essere genitori come momento di condivisione educativa e quindi dove paterno e materno giocano in una stessa direzione. Lo stesso vale a scuola, ma scuola è ancora più difficile perché purtroppo con gli orari scolastici che abbiamo nella scuola italiana conta solo l'ora di lezione, ma bisognerebbe costruire un altro orario settimanale, che ne so, 30 ore dove c'è dentro anche l'attività di gruppo fra gli insegnanti e io sono dell'idea che nei veri centri educativi in aula si sta in due non da solo, nei centri che seguo io si sta in due sempre, ecco, l'isolamento, la solitudine, tutte queste vocazioni magistrali, la magistralità individuale molto gentiliane ma poco efficaci non raggiungono gli alunni, gli alunni devono sentire che gli insegnanti fanno squadra così come i figli devono sentire che i genitori quando discutono, quando hanno un conflitto però lo sanno gestire bene, si rispettano, ci ascoltano, analizzano con attenzione i punti di vista diversi, non sono d'accordo per questo motivo e viceversa, come dire, è bellissimo, e allora ribadiamo anche la scuola, la scuola deve puntare di più sul lavorare assieme, sull'imitazione, sulla condivisione fra gli alunni, non mi stancherò mai di ripetere che a scuola si impara dai compagni più che dall'insegnante, l'insegnante è un regista però i compagni ti fanno veramente imparare perché ti mettono nella condizione di superarti, di superarti, ti mettono nella condizione di collaborare ad ogni costo, hanno bisogno di te i compagni, ecco allora in questa dimensione che è una dimensione cooperativa, la scuola ribadisce la sua funzione, che ha la funzione anzitutto di aiutare gli alunni a saper vivere, vivere bene con se stessi, vivere bene con gli altri. Grazie professor Nomara per essere stato con noi. Grazie a voi, un caro saluto. a che